Rivolta a sud-est in direzione della Mecca che sarà al centro di forma ottagonale con aree verdi e fontane a ricordare le città di fondazione. Dopo mesi di polemiche da oggi l'Università Islamica di Lecce è ufficialmente costituita, fondata da CONFIM, Confederazione delle Impresse Mediterranea, legata per ora al carattere di fondazione fin quando il progetto non diventerà operativo. Si partirà il prossimo ottobre con le attività di formazione d'eccellenza e ricerca e con un corso di laurea in teologia a cui nel gennaio 2016 seguiranno due master in diritto economico e finanza islamica e uno in scienze delle costruzioni. Tre corsi di laurea previsti entro il 2018 in scienze umanistiche, in scienze agrarie e ambientali e del territorio e infine in medicina e scienze infermieristiche per colmare una richiesta che il territorio salentino avanza da tempo. La sede del plesso è stata individuata in alcuni terreni nelle vicinanze di Ecotecne sulla direttrice stradale che collega Lecce, Copertino e Monteroni, mentre la città barocca ospiterà oltre all'attuale sede legale e amministrativa della fondazione anche il rettorato e il college con 300 posti letto. Top secret ancora sui partner economici del progetto di cui uno sarebbe in Africa e l'altro nell'area del Golfo Arabo, ma non solo. Da aprile cominceranno gli accordi, gli incontri ufficiali. Credo che la sorpresa sarà che ci saranno forse partner anche italiani, molto importanti.